Presidente, per un richiamo al regolamento, lei sa che in aula non si può entrare né con cappelli né con parrucche, quindi lei dovrebbe invitare l'onorevole Barbato a togliersi quella parrucca che c'è in testa dall'inizio della legislatura, perché sotto non c'è niente. Onorevole Mussolini, la prego e le tolgo la parola.